dall'esperienza painting natural nasce la nuova linea protective soluzioni ecocompatibili per l'igiene la protezione dei tuoi ambienti sani a rivestimenti murali igienizzanti e batteri o statici agli ioni d'argento per una barriera attiva contro batteri e muffe dopo solo 24 ore dall'applicazione vengono eliminati oltre il 99 per cento dei germi e batteri dalle superfici trattate ideali per ambienti sanitari e pubblici ad alta frequentazione scolastici commerciali di ristorazione e dove è più sentita l'esigenza di igiene e pulizia perfetti per tutti gli ambienti della casa efficaci affidabili e certificati i rivestimenti murali sania sono smalto murale opaco e satinato e idropittura lavabile in esclusiva presso i rivenditori partner ufficiali Boero